Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo workshop sulla nutraceutica e l'applicazione clinica della nutraceutica. Come avrete visto dalla locandina, dalla presentazione, ci sarà una parte introduttiva che cercheremo di affrontare sugli argomenti che sono ormai comuni, comune denominatore per la prevenzione e anche quello che possiamo fare da un punto di vista di ottimizzazione della funzionalità delle nostre cellule, quando parliamo di nutraceutica, quando parliamo di modulazione Redox, quando parliamo di antiossidanti, quando parliamo di nutraceutica applicata alla clinica e naturalmente l'ospite della serata, come sapete, il professor Mauro Miceli che è un esperto di questo settore. Parleremo sicuramente di come possiamo ottimizzare e capire come utilizzare soprattutto le formulazioni quando… scusate un attimo che rispondo a una persona veloce… quando possiamo quindi utilizzare delle formulazioni e perché utilizzare delle formulazioni, magari spray, sublinguali o perché… sappiamo quanto sia fondamentale e lo vedremo col professor Miceli, la biodisponibilità, l'assimilazione, la via di somministrazione, la capacità antiossidante di un'informazione. Io non voglio togliere il tempo al professor Miceli, quindi faremo una serata di un'oretta e mezza, due ore, insomma, abbiamo compreso in tutto, dove affronteremo tutte queste situazioni. Buonasera a tutti, benvenuti e buona… e buona visione, insomma. Tutto quello che facciamo è proprio quello di trasmettere l'importanza del perché bisogna integrare. Chi ha ricevuto la nostra newsletter di invito per questo corso di formazione avrà letto quale sono le motivazioni del perché bisogna integrare e quale siano le differenze tra un nutraceutico e un altro nutraceutico. È chiaro che poi qui già vi anticipo che avrete la possibilità di partecipare a una seconda serata perché non è possibile dire tutto in due ore e la faremo il 26 marzo, quindi parleremo nello specifico di fitoterapia. Vi anticipo questo che non so se alcuni di voi già sono iscritti, noi abbiamo una scuola di alta formazione, già domenica c'è uno dei weekend di alta formazione dove proprio affrontiamo queste tematiche. Quando parliamo di linee guida per un supporto nutrizionale, un approccio clinico integrato, è chiaro che parliamo di epigenetica, parliamo di invecchiamento, parliamo di stile di vita, ma pochissimo e vi assicuro organizzo centinaia di congressi e partecipo a centinaia di congressi ogni anno e pochissimo si sente parlare di quanto la biodisponibilità di ossigeno sia fondamentale per la nostra salute. Questo è il nostro corso di alta formazione, chi è interessato ci sono anche i weekend singoli, il prossimo è sull'oncologia integrata, proprio questo 16-17 marzo, poi ci sarà il 13-14 aprile e poi ne faremo uno anche a grande richiesta a maggio. Naturalmente chi si iscrive alla scuola di alta formazione ha la possibilità di rivedere anche tutte le lezioni a cui insomma non ha potuto partecipare. Siamo centomila miliardi di cellule, quindi quando parliamo di nutraceutica, quando parliamo di funzionalità cellulare, parliamo delle nostre cellule, di come arrivare alle cellule, organi, apparati, sistemi, tessuti. Partiamo sempre da questo concetto e questo è fondamentale, fisiologia, fisiopatologia. Si parte dal concetto che attraverso la respirazione mitocondriale, ciclo di Krebs, noi riusciamo ad avere quell'apporto di ossigeno e idrogeno. Ma c'è un bellissimo articolo oggi del professor Luigi Rossi che parla proprio di quanto l'idrogeno sia indispensabile per la nostra salute e la nostra vita. In realtà, come sapete già, la risonanza magnetica nucleare cosa fa? Va in risonanza con gli ioni idrogeni, perché c'è una quantità maggiore. Quindi avere una biodisponibilità di ossigeno e di idrogeno dentro le nostre cellule è fondamentale per produrre l'energia mitocondriale, l'energia ATP, indispensabile per la vita. È inutile chiedervi cosa mangiamo, cosa respiriamo. Io ogni giorno condivido due, tre articoli sulla mia pagina per creare cultura sull'impatto ambientale. Se oggi è uscito che uno su due muoiono ad anni causati dall'inquinamento in Asia, pensate che Milano è una delle città per inquinate al mondo. Quindi pensate che abbiamo 200 trediti. Bene, cosa mangiamo e cosa respiriamo? Respiriamo, si salve chi può, mangiamo, qualcuno sceglie il cibo migliore, ma poi alla fine va assimilato, va portato dentro la cellula. Attraverso organi, apparati, sistemi, biodisponibilità, assimilazione. Allora quando parliamo di ossigeno dobbiamo comprendere questo. Senza ossigeno non potremmo vivere, non c'è la vita. Quindi quando io dico alle persone ma è così importante che spesso noi non ne siamo consapevoli. Se uno rimanesse senza respirare per alcuni minuti muore. Quindi possiamo rimanere senza mangiare, senza acqua per un po', anche giorni, ma senza ossigeno non è possibile. Quindi la prima cosa da preoccuparsi è quanto ossigeno viene respirato, ma soprattutto quanto ossigeno arriva alle mie cellule. E poi viene utilizzato questo ossigeno. Se è indispensabile per queste funzionalità. Cosa stiamo facendo veramente di importante per tutelare l'apporto di ossigeno a livello cellulare. Parliamo sempre di quello che voi sapete bene, perché voi se siete medici, professionisti, nutrizionisti, sapete benissimo quanto questi fattori possono condizionare e incidere sulla nostra salute. Però pochissimo parliamo ancora una volta della luce, del sole, della luna, dell'ambiente, dei campi elettromagnetici, di tutti quei fattori che condizionano la nostra salute a partire dall'apnea, sì con neuroendocrinologia. Però spesso il nostro organismo è intossicato progressivamente. Sappiamo che le malattie iniziano a livello cellulare, ormai i vari organi, apparati, sistemi, a seconda del tipo di cellula. Basti pensare alla cellula, alla barriera endoteliale, no? Questo organo importantissimo. Però pochi si fanno questa domanda. Veramente pochi. Cioè sembra che sia normale ormai vivere in questo mondo. In questo mondo così inquinato, dove progressivamente intossichiamo il mesenchimo, il tessuto connettivo. A parte il cibo, spazzatura, passatemi il termine, che diamo già ai bambini prima del concepimento, perché come sapete è tutto epigenetica. Quindi l'eredità epigenetica passa dalle madri e dai padri ai figli, fino alla terza, quarta, quinta generazione. L'epigenetica quindi è il software della vita e qui noi, il rimodellamento della cromatina e come sapete, se i tossici si legano a livello istonico, creiamo un problema di sordellamento del DNA. Quindi qua dobbiamo porre attenzione. Allora quali sono magari gli indicatori epigenetici che possiamo conoscere a scopo preventivo, predittivo, ma di supporto per ottimizzare la funzionalità delle cellule? Non è la serata questa, ma come sapete noi ci occupiamo anche di epigenetica. Quindi capire soprattutto quali siano i micronutrienti e le sostanze attive utilizzabili che possono contribuire al sostegno di queste varie funzioni. Pensate quanto sia importante il sistema antiossidante per il recupero dallo stress psicofisico per rimuovere i metalli pesanti e le sostanze tossiche. Sappiamo quanto è importante per noi il fatto che i nutrienti agiscono come molecole di segnali, quindi dall'epigenetica all'epigenetica, anche nutrienti. Se mangio o non mangio cambia la mia vita. Quindi il mangiare ci porta dei nutrienti, nutrienti sono molecole di segnali per le nostre cellule. E sappiamo, come la Sino, ma basta andare sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dice chiaramente l'EFSA quali siano il fabbisogno giornaliero. Se è vero che questo è il fabbisogno giornaliero, vuol dire che se io non lo mangio o non le integro o non le assimolo c'è un problema. E questo vale per tutte le vitamine, ma vale anche per i minerali, vale per gli aminoacidi, vale per gli acidi di grasse essenziali. Giornaliero. Vuol dire che io lo consumo. E questo consumo probabilmente può creare un problema. Come può creare un problema? Nel cesso. Lo vedremo poi, magari, con il professor Mauro Miceli. E allora sappiamo l'importanza della vitamina B1, B12, B2, solo per fare un esempio. Ma quanto queste vitamine sia fondamentale somministrarle magari per via sublinguale? Lo vedremo. Ma anche minerali hanno bisogno di disponibilità? E lo vedremo magari tra 15 giorni con il corso sulla fitoterapia e sull'apporto di minerali, quanto è importante. Gli acidi di grasse essenziali, non c'è solo l'omega 3, ma ci sono tutta una serie della lipidomica della cellula, compreso l'acido arachidonico, l'inoleico, l'omega 6, eccetera. E lo stesso il discorso degli antiossidanti. A cominciare anche dalla superossimo dismutase. E cosa dire della salute del sistema gastrointestinale quando poi siamo di fronte a funghi, a parassiti, a virosi, a post-virosi? Anche in questo caso l'epigenetica, se conosciamo, magari facciamo una mappatura epigenetica, possiamo conoscere quali siano i fattori che possono essere un danno o possono essere utili alle nostre cellule. A cominciare dall'impatto ambientale. Guardate, sostanze chimiche, idrocarburi, radiazioni, metalli tossici. Allora, quale sostanza sta danneggiando la nostra cellula? Quale sostanza sta intossicando il mesenchima e il tessuto connettivo? E che sistema antiossidante o nutrienti ho specifico? Sappiamo quanto sia importante i minerali antagonisti in certe situazioni. Basti pensare, lo vedremo, il silicio nell'alluminio, il selenio nel mercurio, anche lo zolfo è importante, eccetera, eccetera. E poi questa, passatevi il termine, io chiamo strage degli innocenti, perché quando parliamo di impatto da campi elettromagnetici, noi sappiamo che interferiamo pesantemente con la membrana delle nostre cellule, coi mitocondri e soprattutto su un aumento eccessivo, abnorme di stress ossidativo. Ancora una volta, allora, dobbiamo conoscere i fattori che danneggiano la salute, e ne parla in questo studio importante sull'orologio epigenetico, e quei fattori che possono proteggerci. Cosa stiamo facendo? Ma non solo per noi, cosa stiamo facendo per le future generazioni, se ormai questo è assodato? Basti pensare sulla rimetilazione del DNA, la lunghezza dei telomini, il controllo dell'omocisteina, ne parlerà anche il professor Miceli, quanto sia fondamentale magari rimetilare il DNA, l'abbassamento dell'omocisteina e il controllo con l'aggiusto apporto di vitamine, ma se mi manca la B6, magari è inutile che gli do i folati, se i folati sono a posto. Quindi anche qui, ancora una volta, capire cosa serve è fondamentale, e vedremo quanto sia fondamentale l'esterosimetionina, sulla rimetilazione del DNA, la disintossicazione del fegato, eccetera. Già il premio 9 della medicina, 253 lavori scientifici pubblicati insieme all'Apple, ha dimostrato quanto sia importante intervenire in questi fattori. Lo stress cronico aumenterà lo stress sedativo, certo, aumenterà il fabbisogno di vitamine minerali, certo, avremo dei problemi a livello epatico, certo, e la depressione anche. Quindi quanto maggiore richiesta ho di antiossidanti, vitamine, minerali in questo caso? Ma ancora una volta noi abbiamo bisogno di modulatori, per combattere anche l'inquinamento. Pensate, ancora oggi si continua a fumare e a svapare, eppure questo viene consentito. Poi dopo ne facciamo le spese. Ma le spese che facciamo le stiamo già pagando con quello che abbiamo fumato per anni nelle case, nelle macchine, insieme ai bambini, nei ristoranti, negli aerei. Pensateci. Io magari, voi siete giovani, io ormai sono anziato, ma pensate quanto abbiamo respirato nelle case. E ancora una volta tutto questo distrugge a livello endogino, a livello epigenetico, e questo viene trasmesso alle future generazioni. Cosa stiamo facendo per risolvere questo problema? Guardate il fumo di cosa sta facendo, di danno. Pensate che il fumo della sigaretta, secondo l'Istituto Tumori di Milano, professor Boffi, una sigaretta inquina quanto 15 macchine diesel. Ecco, è vero, epigenetica è importante, ancora più importante è partire dalle celle, dalla funzionalità mitocondriale, dal fatto che il DNA mitocondriale è fondamentale mantenerlo sano o ripristinarlo, rigenerarlo. Sappiamo in questo quanto sia fondamentale sull'invecchiamento, sulla qualità della vita, sul recupero, pensate negli sportivi. Allora dobbiamo capire cosa serve veramente alla cellula. Perché non si parla in maniera ottimale del ruolo dell'ossigeno, dell'idrogeno, dell'ATP, della salute del DNA mitocondriale? E vedete qui, che è, come sapete, come danno precursore poi delle patologie neurodegenerative, dove l'ossigeno, senza ossigeno, noi produciamo solo, come sapete, due molecole di ATP, con l'ossigeno 36 molecole di ATP, e quindi è tutto un altro mondo. E poi vedremo il ruolo della carnitina, vedremo quanto questo sia importante per allargare la fornacea mitocondriale, quindi aumentare il metabolismo, quanto sia fondamentale l'apporto di vitamine B, ma soprattutto biodisponibili, assimilabili, e quanto sia importante metterle insieme anche a altre vitamine. Per il riciclo delle vitamine. Quello che mi preme sottolineare è, prima di tutto, lavorare sul terreno, sulla cellula, sul mitocondrio, sulla disfunzione mitocondriale, sulla riproduzione di ATP. Per prevenire, guardate, siamo a 1 su 36 casi di autismo ormai, disturbi bipolari, schizofrenia, scherose muclea, cioè sono problemi enormi a livello neuropsichiatra, ma soprattutto è lì che noi dobbiamo incominciare a creare cultura. Ma questo è un lavoro bellissimo dell'European 2016 che ci dice quanto tutto quello che sappiamo dei fattori che... Ecco, pensate quanto sia fondamentale in questo caso che tutti questi fattori, virus, batteri, traumi, funghi, eccetera, danneggiano, quindi aumentano lo stress nitrossativo e lo stress ossidativo. Quindi aumenta il danno mitocondriale, aumenta l'infiammazione e la malattia. Questo è un lavoro bellissimo dell'European 2016 fatto dai medici per l'ambiente, l'ISDE. Ancora, quindi parliamo di mitocondri e il fatto che il DNA mitocondriale decide la longevità, indispensabile per la prevenzione delle malattie metaboliche, dell'invecchiamento, dei tumori, fondamentale per proteggersi dal danno ambientale. Ancora, i mitocondri fondamentali, le mutazioni del DNA ereditate per via materna, influenzano sia il microbiota intestinale sia malattie a essere correlate. E noi parliamo purtroppo, troppo e solo di microbiota e del fatto che ha bisogno di magari supporto che non è poi quello che mi fa attivare il mitocondrio. Prima di tutto, dobbiamo ripristinare la funzione mitocondriale. Tutte le malattie sono legate ai mitocondri. Allora dobbiamo ricaricare il mitocondrio. Un ruolo importante lo ha l'ossigeno. Ci sono varie forme di ipossia, ipossica, stagnante, estotossica, ma questi sono tutti argomenti che trattiamo alla scuola di alta formazione. Però qui c'è un danno importante dalla stanchezza cronica alla fibromialgia, alle difficoltà di concentrazione, alle apnee notturne, alla stanchezza cronica, che poi c'è un altro danno di ischemia e riperfusione. Basti pensare X o infarti. Quindi modulare l'ossigeno, ottenere un buon apporto di ossigeno a livello tessutale è fondamentale per la nostra salute. Beh, la prova è il testo di fisiologia medica di Geaton. Ma anche il premio Nobel alla medicina, il Warburg. Ma il premio Nobel che diciamo sempre abbiamo vinto il premio Nobel perché di queste cose ne parliamo da 25 anni. L'effetto Warburg. Quanto sia importante lo switch politico che poi mi fa incominciare a produrre energia ottimale a livello mitocondriale. Voi conoscete, qualcuno di voi fa ossigeno-zonoterapia, eccetera. Importantissimo in fase acuta. Vi ricordo che la camera iperbarica poi vedremo può dare dei problemi. E noi tutto questo lo facciamo per produrre energia ATP attraverso la nutrizione, la respirazione, ossigeno e idrogeno. E ancora una volta una delle cause determinanti dello stress ossidativo è l'iposia. Carenza di ossigeno, acidosi, acidosi, stress ossidativo, stress ossidativo, infiammazione. attenzione, anche la camera iperbarica andrebbe fatta protetta. Questo è un studio pubblicato da Fisadio Urbino, Benedetti Canestrari e come vedete qui si prova che in questo caso la camera iperbarica può aumentare lo stress ossidativo. Certo, aumenti l'ossigenazione al 100%, dovresti controllare il paziente con una modulazione di antiossidanti. Prima, durante e dopo. Perché magari dopo, magari anche una settimana, si rischia gli effetti rebounder della camera iperbarica. Noi, come sapete, da anni che diciamo promuoviamo il self-food, il self-food ormai è una ricerca scientifica importante, tutte le pubblicazioni che trovate su PubMed e quindi quello che vi stiamo parlando è documentato. Abbiamo scritto anche un libro insieme a altri 20 medici proprio su tutte le ricerche di questa importante opportunità di modulare l'ossigenazione. Parliamo di modulatori, questo è una slide che mi ha prestato il professor Iorio e non dobbiamo combattere i radicali liberi perché sono la vita, vanno modulati, va controllato, perché sono anche importantissimi per il nostro sistema immunitario. Pochissime volte ho parlato della storia di questo straordinario nutraceutico, stasera lo voglio fare perché questo nutraceutico è stato messo sul mercato pensate nel 1969, formula e verità storia originale, c'è tanta confusione, c'è gente che dice ah no, non è vero, quello che conta è la ricerca scientifica pubblicata e quindi quella o fai un lavoro scientifico contrario che ti mostri contrario se no devi prendere atto della ricerca scientifica che è stata fatta, ma non potrebbe rimanere un prodotto così sul mercato per 55 anni se non fosse un prodotto così straordinario. È il primo prodotto al mondo a base di ossidio e la formula è di proprietà ed è la Nuscience Corporation California. Questo nutraceutico è in grado proprio di ottimizzare le funzionalità. Pensate che dal 1999 che erano 10 in 5 paesi adesso è in 120 paesi nel mondo. pensate che in Cina questo nutraceutico fa circa 6-7 milioni d'anni. È un genio Everett Story perché ha creato questo nutraceutico con questa tecnologia unica al mondo bibasica edipolata. Everett Story iniziò conducendo gli esperimenti sul solfato di deuterio. Il solfato di deuterio è estratto dall'acqua termale quindi è completamente 100% naturale viene estratto dai geyser dell'Odi-Eleston un atomo con distribuzione asimmetrica di elettroni legati a un legame ionico. Qui non sono sempre distribuiti equamente tra i due atomi di legame quindi può esercitare più di una forza sulla nube elettronica rispetto a questa forza viene chiamata elettronegatività e sapete quanto sia importante aumentare la conducibilità e è importante quindi la biodisponibilità all'assimilazione di un nutriceutico. Alla fine noi quello che ci interessa a qualsiasi cosa facciamo è aumentare la produzione di energia dentro il nostro organismo ottimizzarla modularla regolarla ecco perché si parla poi di medicina di regolazione attraverso moltissimi nutriceutici come sapete ci sono varie scuole e noi nella scuola di alta formazione parliamo di questo quindi in questo caso noi utilizziamo il self-food che ci permette proprio questo è il brevetto che poi è diventato formula di proprietà top secret naturalmente quindi se qualcuno mette in dubbio che questo sia un brevetto guardate questo è il documento ufficiale di Everett story per modalità esplicativa naturalmente è molto più complicato però il self-food utilizza l'acqua si prende a gocce si beve questo carica negativamente l'ossigeno si lega i radicali libri e riforma ossigeno se l'ossigeno non serve si lega l'idrogeno e riforma quindi ci permette di rompere quel circolo vizioso di possia acidosi stress esattivo e di funzione endoteliale pensate che ha una capacità antiossidante è stata tra l'altro dal professor Iorio di 30 volte quella del plasma umano con la capacità di aumentare l'ossigeno fino al 60 70 80% nelle 12 ore satura l'emoglobina fino al 100% e questa è la cosa che insomma che mi mi ha donato l'Unnocence Corporation su questo 25 anni dal 31 agosto del 1999 come sapete il self l'ho conosciuto ha un'esperienza personale dopo un grosso incidente stradale e avendo avuto dei benefici ho deciso di portarlo dal mondo medico scientifico per un'esperienza personale dopo un incidente grave è un pool antiossidante sinergico e sistemico ancora una volta questa ha la potenzialità antiossidante di self food è un modulatore fisiologico della domanda di ossigeno poi tutta questa materiale se alcuni di voi sono interessati poi ci sarà la registrazione a chi ne farà richiesta e qui quello importante ne parlerà il professor Iorio la cosa fondamentale di questo nutraceutico è un colloide quindi altamente biodisponibile e assimilabile le caratteristiche elettrolitiche del prodotto ci permettono quando viene messo nell'acqua di farlo diventare un colloide appena lo bevete 0,64 secondi nel sangue guardate la curva di biodisponibilità e assimilazione prima e dopo e quindi 100 quasi 100% di biodisponibilità veramente straordinaria e come sapete le forme sublinguali questo è un altro documento che mi ha donato il professor Iorio come vedete nel 2013 già si parla di biodisponibilità formulazioni spray e come sapete le formulazioni spray lo vedremo con il professor Mauro Miceli quanto siano fondamentali naturalmente questo è un farmaco illegale tossico pensate che è uno dei pochissimi nutraceutici al mondo ad avere non solo utilizzato da tutti gli sportivi anche a livello olimpiadi triatron triatretti insomma ciclisti maratoneti Giorgio di Centa mi faceva uso veramente in maniera costante faccio uno dei più grandi olimpionici che abbiamo avuto abbiamo fornito la Juventus per nove anni come vedete è assolutamente a tossico quindi primo non nuoce un nutraceutico che ha la DL50 come se fosse un farmaco per dimostrare che è altamente sicuro se ne può bere anche 500 grammi senza tossicità però pensate si assume a gocce diluito in un bicchierone d'acqua ossigena la cellula depura l'organismo nutre la cellula riequilibra il pH tessutale e ha un'azione antiossidante importantissimo quello che fa il serbo non cura le malattie cura le cellule si occupa dell'attività mitocondriale ecco perché poi il comitato scientifico ha dato tutte queste possibilità di impiego dalla stanchezza fino al supporto in varie patologie ma perché? perché sono stati fatti delle ricerche scientifiche dimostrato la sua capacità antiossidante fino al 27% in 30 giorni su chi fumava gli atleti in over oppure una dieta obesità questi sono i lavori scientifici ancora una volta avrò dovuti rivadire la protezione del danno ossidativo al DNA e glutazione eritrociti e leuciti e quindi penso che sia fondamentale avere un nutraceutico ha dimostrato queste capacità questo è uno degli studi più importanti che magari poi ne parlerà il professor Ioreo sull'endotelio sulla capacità proprio di aumentare l'ossigeno dentro le cellule e questo è un altro studio pubblicato sul candidato nel supporto ai trattamenti malattie caratterizzate per complicazioni cardiovascolari questo è uno studio pubblicato quindi questo è scritto nello studio aumento dell'ATP studi sugli sportivi pensate che questo è un doppio cieco con placebo fatto dall'istituto sport di Pretoria una delle eccellenze al mondo per la preparazione degli atleti e qui hanno dimostrato che Salfur riduce la frequenza cardiaca la frequenza respiratoria il V2 max il quotiente respiratorio aumenta l'emoglobina i globeri rossi diminuisce l'acido lattico penso che questi siano dati fondamentali nel ciclismo ancora una volta grossissimi risultati dopo 5 settimane l'aumento della potenza del V2 max è ancora conferma i benefici nello sport sono ovviamente importanti perché la protegge anche dall'emolisi a livello dei globuli rossi e addirittura in Sudafrica è prescritto rimborsato dallo Stato ma in Italia come sapete è impossibile si salve chi può e quindi serve per il supporto e per la prevenzione questi sono tutti gli studi fatti sono pubblicati su queste patologie come supporto alla disintossicazione da metalli pesanti ma anche su tutti i parametri dello stress sedativo guardate questo è 50 pazienti e anche una volta abbiamo diminuito l'omocisteina aumentato la B12 aumentati i folati aumentato il glutatione in dose ancora una volta provato dimostrato in vitro e adesso anche in vivo perché? perché aumenta la funzionalità mitocondriale a livello cellulare questo è quello che viene poi pubblicato sui lavori scientifici poi è stato fatto uno studio su 240 pazienti e ha dimostrato la stessa efficacia sulla frivomialgia sapete quanto sia importante alleviare questa sintomatologia dolorosa siamo arrivati fino al 42% della stanchezza quotidiana e il 40% del dolore se poi lo associamo al SAME lo vedremo poi dopo quanto abbiamo benefici bene andando in conclusione per lasciare spazio al professor Mauro Miceli il self-food ha una grande e ampia campo di applicazioni soprattutto lavora sul terreno sul mitocondrio sull'ipossia sull'ossigeno quindi è uno dei nutraceutici veramente straordinari per supportare qualsiasi protocollo terapeutico che voi volete fare con qualsiasi altro prodotto che serve al vostro paziente c'è una varia linea di prodotti di cui ne parleremo dal diet switch il silicio colloidale il l'emetinsulfonil metano il SAME questa molecola straordinaria sublinguale il multivitaminico spray la vitamina C spray e qui se poi volete vi possiamo volete fare una foto non lo so questa è proprio un'applicazione di questo protocollo anti-aging di quello che può essere utilizzato ricordate che abbiamo questo straordinario oxygen gel dermatite acne psoriasi scottature rigenerazione della pelle post leafing post laser questo oxygen gel è veramente straordinario in case particolari di pelle si può aggiungere una goccina di self-food per rafforzare l'efficacia questa è la linea della Nuscience Corporation e di self-food come sapete noi poi abbiamo il Sally Mooney ne parleremo prossimamente nel prossimo corso di aggiornamento parleremo di bioenergen questo straordinario fitoterapico di 20 piante fitoterapiche in grado di disintossicare l'organismo e lavorare sull'intestino probabilmente ne parlerà il professor Maron Miceli vi invito a partecipare a questo veramente importante weekend di formazione sull'oncologia integrata avremo il professor il dottore Salvatore di meglio il professor Claudio Pagliara che voi conoscete Andrea Pensotti che parlerà di riprogrammazione della cellula tumorale e nuovissime ricerche scientifiche il professor Mauro Miceli e poi la grande carissima Tiziana Toso questa meravigliosa dottoressa che parlerà proprio del supporto nutrizionale l'oncologia questi sono i nostri contatti avete i siti potete andare a vedere anche il sito sull'epigenetica che è sedriveitalia.it perché è interessato e ci vediamo il 26 marzo alle 20 sulla nutraceutica e fitoterapia e protocollo integrato a supporto e la prevenzione vi ricordo che a settembre ci sarà il congresso internazionale non perdetelo a Bologna il 7 e 8 settembre sarà qualcosa di straordinario perché ci sarà noi celebreremo i 25 anni di self-food in Italia e in Europa quindi non mancate sarà veramente un grande onore avervi con noi vi ricordo la scuola di alta formazione potete iscrivervi anche adesso anche per partecipare ai alle ai weekend che avete perso non siete avete potuto vedere sono tutte registrate quindi si può partecipare quando si vuole concludo con il mio solito messaggio che è tutto bello quello che facciamo ma se non abbiamo rispetto del prossimo del lavoro degli altri del pensiero degli altri e soprattutto se non ci mettiamo oltre all'entusiasmo ma anche la coerenza e l'amore non possiamo assolutamente vivere perché la vita senza amore non ha senso grazie veramente di cuore a tutti grazie per avermi ascoltato è un privilegio e adesso passiamo la parola al professor Mauro mi c'è grazie a tutti grazie a tutti